Il controbandiere è qui! Il controbandiere è il controbandiere e sparate a vista! Hai qualche sorpresa per me? Il controbandiere è il controbandiere. Il controbandiere è il controbandiere. Oh! Fucile ad assalto. ci sono molto più stupidi non c'è l'antiglia ci sono non c'è non c'è succede che sono la parte finale quindi la voglio finire si cazzo è Matrix però penso che non credo di farcela c'è uno stacco mi sono indrippato male da di là ce n'è uno non c'è uno stanno merda aggiralo come mi hanno visto non si sa va bene va bene cioè bello che ho fatto tutto il giro mi hanno visto così a caso queste cose mi fanno incazzare di sto gioco cioè non ho fatto rumore ero covacciato in silenzio e mi hanno visto vabbè va benissimo allora forse ci manca che mi vede dietro il muro mi siamo a posto vai trovami dietro il muro e quitto stacco direttamente senza senza capire niente da ma come cazzo li devo prendere questo ma davanti sono ho capito non possono volere bene ma pare tu abbia scelto il modo più doloroso mi vede ma quello vede il cadavere e abbiamo perso uno il perimetro vabbè bello che ho fatto la presa e mi ha visto cioè che senso ha quale le prese se poi ti vedono lo stesso cioè non ha senso non ha senso che cazzo Contrabandiere Attrabandiere Attrabandiere è difficile è difficile perché devi muovere nel momento giusto cioè o fai una sorta di imboscata alla rambo ma non mi piace fare una cosa del genere cioè se ho l'opportunità di di gestirla sinceramente a meno che faccia una sorta di trincea qui proprio nel cioè mi metto qua mi trincero via rivederci e grazie chiaro quello lì sta andando da quel lato questo lo posso prendere alle spalle questo se appena si gira qua gli faccio azzacchete via questo lo possiamo andare a prendere piano piano mettiamocci qua devo sfruttare le bottiglie e le cose ora vede il cadavere questo quindi ci andiamo alle spalle ne abbiamo perso uno bravo prendiamo le munizioni allora questo ha detto ne abbiamo perso uno quindi forse adesso si avvicinano manco per il cazzo me ne stanno fregando un altro che solidarietà allora bottiglie non ne ho no è rischioso allora devo andare a prendere il mattone eh però il mattone è là sotto o ne prendo un altro allora facciamolo così allora qui se non sbaglio c'erano oddio chi è che mi vedeva? c'era qualcuno là sotto? ecco qui c'è un mattone allora qui facciamo attenzione allora passo di qua allora questi sono tutti lì andiamo di qua qua non c'è nessuno però lì ce n'è uno ok allora aspettiamo questo e lì ce n'è un altro però questo non so se riesco a prenderlo velocemente perché c'è quell'altro che potrebbe darmi fastidio aspetta questo di qua ci posso andare? no eccolo merda no facciamo attenzione qui c'è un altro però non si muove da lì minchia qua ce n'è uno cazzo ok non mi vede vabbè eh però quello non si muove da là ok potrei effettivamente eh vabbè 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 qui sono in due che praticamente sono una sorta di controllo incrociato eh attenzione o merda però potrei anche fare il rumore qui dentro ecco diciamo così sì qualcuno si deve spostare per forza ecco ok ci siamo allora trafichiamo coltelli allora questi due ce n'è uno qui ma quanti cazzo siete anche questi scavalcono dove cazzo siamo questo sarebbe bello da poter prendere alle spalle eh sì questo porca merda la lasciamo andare ok andiamo adesso dove se ne vanno ma cazzo ok sono ritornati di nuovo allo status qua eh però sti due sono rimasti qua ma cazzo ci fosse qualcuno là dentro invece no allora lì c'è uno questa ora l'aspettiamo easy oddio stava buttando giù il fa di qua ci viene non credo che ci venga attenzione minchiava è un casino un labirinto sto posto perché di qua posti porte non ce ne sono quindi questo passa di qua e questo torna esce che mi conferrebbe questo spalargli direttamente in testa nascondermi e chi si è visto si è visto che si è visto Grazie a tutti Ok, quello è rimasto là dietro Ecco, ok Da qua lo posso mirare? Non chiederei che cosa riesco a fare Che cosa fenomenale ho fatto Quella è impazzita Quella è estremamente impazzita Va bene Allora se io riuscissi a prendere un angolo di tiro da qua Lo potrei buttare giù tranquillamente a quello Grazie a tutti Che spazio sei mortale Che quanti cazzo di qualpi ho dovuto sparare? Oh, Gesù Cristo Giustamente con questo fucile non ho una buona mira Perché è l'ultimo che ho preso Mi sono abbastanza scarso Ah ok, ho fatto fuori anche quello Allora è rimasto solo questo Allora di qua munizioni non ne abbiamo Quindi cambiamo E mettiamo questo Qua abbiamo una munizione sola Quindi è il momento del lanciafiamme Ci buttiamo pesanti Va bene Allora, qui ci sono munizioni Bene Ok, mi sa che mi conviene tenere questo Decisamente Si Allora, lì c'è il tizio che fa la guardia Vediamo se riusciamo a fare una bella cosa Non rischiamo Per favore Insomma, l'ho preso in testa Cioè, vendendolo in testa Oh, Jack Ciao, Jack E infatti ha uno zaino che è in piazzale Non è uno zaino Allora Oh Allora, facciamoci medipack Qui vabbè, lasciamo perdere Ok Allora Allora, qui ci sono delle forbici Che penso che debba andare di qua Allora, ecco Che succede là tu? Merda Merda Mi ha visto Eh, vabbè, ma che cazzo di giro Tu c'è, mi vedi? Toh, fancula Eh, quelli là mi sa che ora tornano indietro Mi hanno visto Eh, che cazzo di giro Scappa, coglione Gli hanno un'intelligenza artificiale proprio Veramente in testa con un colpo in testa Va bene che hanno il casco Ma è esagerato un po' È troppo esagerato Ecco, già questa è un'idea un po' più intelligente Facciamo attenzione perché qua non vorrei che ci sia un'altra sorpresa Va bene Eh vabbè l'accetto ormai Giustamente l'accetto ormai la devo sfruttare Aver risparmiato tutte cose Minchia ma veramente un caricatore sano gli ho sparato Sfatti io l'ho sparato in testa Ed è sopravvissuto Aspetto, ma qua c'è qualcuno? va bene documenti ok di qua dobbiamo andare ok quindi qui ci sono altri allora facciamo attenzione oh quanti cazzo si va bene non credo che l'abbiano sentito mi sa che devo mettermi un po' più avanti di qua questo è un problemino problemino cioè ma realmente un uomo può sopravvivere a tutti questi proiettili ok che è assurdo comunque hanno una mira vabbè quello lo devo prendere col fucile di caccia un po' più avanti un po' più avanti c'è praticamente in testa gli levo solo l'elmo cioè capito cioè in testa gli prendo l'elmo e loro non crepano bellissima sta cosa è ma dio buono madonna Cazzo siamo al poligono di tiro qua, ragazzo siete combinati figli miei A parte che io faccio schifo a sparare con il joystick, ok Siamo d'accordo su questo Però neanche così, cioè così è esagerata la cosa Allora, munizioni qua non ce ne sono Qua non ce ne sono C'è assurdo, veramente Questo munizioni ne ha anche In chiasana senza munizioni, la vedo brutta sta cosa Allora, non c'è musica particolare, quindi dovrei essere tranquillo per ora Che non c'è nessuno Minchia, munizioni zero Allora qua sotto ce ne sono un paio No, questo è mattone Ok, munizioni Grazie a Dio Ecco Forza Mi farà guadagnare tempo Ehi Anna È da un po' di tempo che non parliamo Io ho autorizzato l'operazione chirurgica Non che avessi altra scelta La richiesta Era una pura formalità Ma devi sapere Che per tutti questi anni Ho sempre mantenuto la promessa Nonostante le responsabilità del mio ruolo Mi sono sempre presa cura di lei Avrei fatto qualunque cosa per lei Ma poi Ecco che capita l'opportunità di salvare tutti Tutti noi Era questo il nostro obiettivo Il tuo obiettivo Mi hanno chiesto di uccidere il contrabbandiere Non ucciderò l'unica persona qui dentro Che può comprendere il peso della mia scelta Forse Lui potrà perdonarmi Oh quanto mi manchi Anna Tua figlia ti raggiungerà presto Cristo santo Dottore Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere È il nostro futuro Pensa a tutto No Schifoso animale Cari chiudi il becco Forza piccola Ti tengo Ti tengo Umberto Torna indietro Ma porta verso i bambini Umberto Ti ho portato via da qui piccola Ti ho preso Andiamo Oddio Guarda che parti È tutto ok È tutto ok È tutto ok Ho detto indietro Fermo Fermo Non puoi salvarla Non puoi salvarla Anche se la porti via E poi Quanto ci vorrà Prima che dei clicker La facciano a pezzi Sempre che qualcuno Prima non la stupri E la uccida Non sta a te Deciderlo È quello che vorrebbe lei E lo sai bene Ascolt Puoi ancora Fare la cosa giusta Non sentirà niente Anche se la porti via da qui Ma... ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni. A dozzini addirittura. E non ha servito proprio a niente. Ma no, anche... Hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta... Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Beh... Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perché non è finito? Perfetto. Occhio la testa quando entri. Ok. Ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che... Che voi due sareste... Diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta. E tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi. Ma è tornato a casa sua. Proprio casa sua. Casa sua. Non è da suo fratello qua. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. E non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. E lì... Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi sempre. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto... Lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... Ciuramelo. Ciurami che... Tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Cazzo. Mi devo vedere il trailer del 2 adesso. Appena finisci. Ok. No. Madonna. Che casino. Cioè lui le ha mentito spudoratamente. Lui le ha mentito spudoratamente. Cioè ma quindi nel 2 lei scopre sicuro che in realtà lui mente. Che succede è il casino. Eh bisogna vedere se c'è qualcosa dopo. Eh sì. Lui si è affezionato. Lui si è affezionato. Lui veramente la vedo come una figlia. Cioè lui non l'ha voluto mai ammettere all'inizio. Però... Giustamente pesante questa cosa. pesante pesante no vabbè dovevo vedere dovevo vedere il trailer del secondo mi devo vedere il secondo anche perchè l'anteprima è il 29 che esce venerdì l'anteprima di The Last of Us 2 anzi va andare avanti non voglio saltare i ditoli di coda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.